Hai una concreta e magari innata predisposizione al comando e nonostante questo sogni un ufficio magari che sia tra le nuvole, ami l'idea di trasportare le persone da una parte all'altra del mondo e assolutamente non hai paura del vuoto, anzi sei una persona che ha molto autocontrollo e anche una buona dose di leadership. Bene, se hai tutte o anche alcune di queste caratteristiche allora potresti proprio essere la persona adatta per diventare un pilota di linea. Ciao, io sono il professor Marco Doria e sono il direttore di Digital Campus, una business school che eroga master. La mia missione personale è quella di portare i ragazzi al raggiungimento del proprio potenziale professionale e lo facciamo tramite le competenze. Infatti sono solito dire che la disoccupazione non esiste ma esistono solo delle competenze che devi ancora imparare. In questo video ti spiego come diventare un pilota di linea. Prima però dobbiamo fare una piccola premessa introduttiva. Chi è il pilota di linea? In generale possiamo dire che il pilota è il titolare di una licenza aeronautica che consente di pilotare aeromobili civili in base alle qualifiche di cui questa persona è in possesso, dette anche abilitazioni. Esistono diverse tipologie di licenza, per esempio pilota privato con la licenza PPL, pilota commerciale con la CPL e pilota di linea con la TPL. In base alla licenza l'attività di pilota viene svolta come professione, per esempio nei casi di licenza di pilota di linea di veivolo o di elicottero e licenza di pilota commerciale di veivolo o di elicottero. Oppure anche a scopo ricreativo sportivo esiste la licenza di pilota privato di veivolo o di elicottero, la licenza di aliante e la licenza di aerostato. In questo video mi voglio concentrare nel primo caso ovvero di come si possa ottenere la licenza a TPL. Cerchiamo quindi di disegnare un po' il profilo del pilota di linea. Ecco possiamo dire che lavora come dipendente di una compagnia aerea che può essere sia civile che militare. Nello specifico si occupa di pilotare oppure di copilotare l'aereo utilizzando chiaramente in modo coordinato gli strumenti e i dispositivi, quali potrebbero essere i computer di bordo, i motori e monitorando chiaramente la strumentazione per garantire la sicurezza del volo. Quindi non è proprio che si occupa solamente di guidare da punto A a punto B, ci sono parecchie cose da tenere in considerazione. Quindi è un ruolo, un mestiere che possiamo definire abbastanza complesso che diciamo richiede parecchia concentrazione durante l'utilizzo chiaramente dell'aereo mobile e del volo. E possiamo anche dire che ha un ruolo cruciale perché è il primo responsabile della sicurezza e dell'efficienza di questo volo. Nel dettaglio le responsabilità e i compiti principali includono la preparazione pre-volo dove bisogna familiarizzare ovviamente con le condizioni meteorologiche previste, pianificare il percorso di volo, calcolare quanto carburante serve e verificare chiaramente la condizione tecnica dell'aereo mobile. Fare un check pre-volo, quindi eseguire controlli sull'aereo mobile prima del decollo chiaramente per garantire che tutti i sistemi siano operativi e che l'aereo mobile sia sicuro per il volo. Chiaramente la comunicazione con il personale di terra che si occupa anche di fare altri check quindi prima del decollo e dopo l'atterraggio bisogna comunicare col personale per coordinare le attività e chiaramente ricevere le informazioni dedicate al volo. E poi durante il volo dei sistemi quindi deve seguire le rotte di volo pianificate e mantenere le comunicazioni regolari con i controllori del traffico aereo. Poi fornisce chiaramente come tutti sappiamo anche le informazioni ai passeggeri mantenendo la calma quando necessario e fornendo dei dettagli rilevanti chiaramente sul volo. E nel caso di situazione di emergenza deve gestire anche i guasti tecnici. Inoltre bisogna che sia collaborativo con il copilota e con il resto dell'equipaggio rispettando rigorosamente le normative e le procedure di sicurezza dell'aviazione civile. Inoltre è previsto un addestramento continuo chiaramente essendo un ruolo così delicato e così importante i corsi di addestramento per restare aggiornato sulle nuove tecnologie e sulle nuove procedure di sicurezza e di volo sono direi fondamentali nonché obbligatorie chiaramente per fare questo mestiere. Ma ora andiamo a guardare nello specifico qual è il percorso di studi per diventare un pilota di linea. Partiamo dal presupposto che come tutte le cose un po' complesse non è semplice quindi la formazione è diciamo lo scoglio principale perché dura molti anni, richiede molto impegno e dedizione ma soprattutto tanto studio e tanta pratica. Chiaramente anche un impegno economico che guarderemo tra poco. Premetto che ci si può iscrivere anche da minorenni ma per poter dare gli esami è necessario aver compiuto 18 anni e chiaramente aver conseguito almeno il diploma di scuola superiore. In alternativa al diploma bisogna superare dei test quali matematica, fisica e inglese. Poi è obbligatorio frequentare una scuola di volo riconosciuta soprattutto che sia approvata da ENAC che è l'acronimo di ente nazionale per l'aviazione civile. La licenza poi si ottiene dopo aver superato un esame teorico pratico svolto sempre presso l'ENAC. Le scuole certificate sono vere e proprie scuole di addestramento e fanno riferimento a un'organizzazione di più alto livello, ovvero all'ATO, Approved Training Organization, normato dal regolamento europeo 1178-2011 e chiaramente dai suoi emendamenti. Possiamo dire che esistono due tipi di percorso per diventare pilota di linea. Il primo prevede in ordine questi passaggi, quindi il conseguimento della licenza di pilota privato e poi l'addestramento per la licenza commerciale. E solo dopo un numero minimo di ore su aeromobili a equipaggio plurimo c'è la possibilità di sostenere l'esame per pilota di linea. Nel caso invece di corso integrato l'allievo consegue la licenza di pilota commerciale con l'idoneità teorica per la licenza di pilota di linea. Quindi svolge l'addestramento teorico per la licenza di pilota di linea, detta anche ATPL frozen, ovvero congelata, dopo vedremo perché, che prevede comunque 750 ore di teoria e almeno 200 ore di volo. L'idoneità teorica una volta conseguita è comunque valida per sette anni e in ogni caso fino a quando l'allievo mantiene l'abilitazione al volo strumentale. Terminato l'addestramento pratico e superato l'esame in volo, l'allievo è titolare di una licenza di pilota commerciale che lo abilita a svolgere l'attività professionale. L'ultimo step è quello per diventare comandante. Bisogna aver accumulato 1500 ore di volo in modo da poter scongelare la TPL, chiamata poi licenza full ATPL. Le licenze rilasciate dall'ENAC sono licenze EASA, dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea, che è l'organo di controllo del settore aeronautico dell'Unione Europea. Qual è fra tutte la scuola migliore in Italia? A parere di molti, almeno da come mi hanno detto, la scuola di riferimento è quella dell'aereoclub di Milano. Tuttavia però possiamo dire che ce ne siano tante altrettanto valide. Prima di sceglierla è bene fare attenzione comunque ad alcuni punti molto importanti. Il primo è accertarsi che sia una scuola autorizzata dall'ENAC, cioè una ATO. La seconda è di verificare se c'è l'idoneità e la possibilità di ottenere dei finanziamenti agevolati, considerando anche la propria condizione economica. E infine, ultimo consiglio, considerare una zona geografica per non mettere a rischio le ore di volo a causa dei frequenti maltempo che si possono essere appunto in determinati punti d'Italia. Chiaramente il consiglio finale è quello di visitare le scuole e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, ma questo diciamo che è abbastanza scontato. Infine, i costi. Il costo può essere davvero uno scoglio per questa professione, forse lo scoglio più importante. Metti in conto che dovrai spendere almeno 100-120 mila euro per ottenere la licenza ATPL. Però se si vuol fare questo mestiere, magari una soluzione la si può trovare. Ci sono poi altre vie per ottenere la licenza, magari quella militare, ma ne parleremo magari in un altro video. Però andiamo a dare uno sguardo adesso al mercato del lavoro. Secondo gli ultimi dati dell'ENAC, il numero dei piloti è arrivato a 2.338 nel 2021, mentre oggi pare che lavorino oltre 3.200 piloti. Quindi siamo di fronte a una rapidissima evoluzione di questo settore, che fatica tra l'altro a trovare professionisti di volo. Anche per questo, come sappiamo tutti, lo stipendio è notevole. Infatti, lo stipendio medio di un pilota di linea è di 3.400 euro nette al mese, con un entry level di 2.300 euro al mese nette e un massimo di 9.000 euro al mese nette. Chiaramente dipende molto anche dalla compagnia. Entrando nel vivo della professione, cosa serve davvero per fare ed essere un pilota di linea? Parliamo quindi delle hard skills. In primis, l'abilità di volo, cioè la conoscenza dell'aeromobile in sé. Ci riferiamo proprio alla conoscenza dettagliata dell'aeromobile, compresi i sistemi di propulsione, i sistemi di navigazione, i sistemi di comunicazione e gli strumenti di bordo. Poi anche la navigazione aerea, cioè la capacità di pianificare e seguire rotte di volo sicure, chiaramente utilizzando gli strumenti di navigazione. C'è sicuramente poi la conoscenza delle normative aeronautiche, quindi delle procedure operative standard, stabilite dalle autorità di regolamentazione dell'aviazione civile. La comunicazione radio, che è importantissimo, ovvero l'abilità di comunicare efficacemente con i controllori del traffico aereo e gli altri piloti attraverso la radio. Con la comunicazione si salvano le vite. Questa è una cosa che ho sentito dire e che effettivamente è vera, perché la corretta comunicazione può aver successo quando cominciano i veri guai. Imparare chiaramente a gestire e controllare il carburante, a gestire le risorse dell'equipaggio, collaborare in maniera efficace con il copilota, con il resto dell'equipaggio e con la cabina di meteorologia. Chiaramente saper comprendere e interpretare le condizioni meteorologiche è fondamentale per prendere delle decisioni riguardo le rotte più sicure. Conoscere assolutamente le procedure di emergenza, ma soprattutto sapere benissimo la lingua inglese, essendo l'inglese la lingua internazionale dell'aviazione. Ma ora parliamo delle mie preferite, le soft skills. Comunicazione efficace, l'abbiamo già detto, perché serve collaborare e serve fare team working, quindi lavorare assolutamente in maniera serena con il resto dell'equipaggio. In primis lo metto come una delle cose fondamentali, la gestione dello stress e l'autocontrollo, perché quando ci sono guai in volo è pericolosa, la situazione lo sappiamo, le condizioni di sopravvivenza diminuiscono drasticamente, quindi la gestione dello stress è fondamentale. Ma anche gestire lo stress in quanto è un lavoro comunque, anche che quando va tutto bene può essere molto stressante, legato molto agli orari dei voli, quindi essere precisi, essere puntuali può essere stressante dal punto di vista proprio di organizzazione. Serve molta flessibilità e adattabilità, se un volo è in ritardo, se la pista non è pronta per il decollo bisogna aspettare, bisogna fermarsi in posti piuttosto che in altri, quindi insomma bisogna essere molto adattabili. Questo comprende saper gestire bene il tempo e avere soprattutto un'attenzione ai dettagli maniacale, perché comunque si tratta veramente di micro decisioni che possono veramente dare esito positivo a una situazione di pericolo. E poi deve essere un decision maker, cioè il comandante è quello che deve prendere decisioni in poco tempo ed ecco perché è richiesta come condizione proprio personale. Parliamo anche degli ostacoli per questo mestiere. Requisito essenziale e imprescindibile per intraprendere la strada di pilota è l'idoneità psicofisica, chiaramente certificata dall'Istituto Medico Legale dell'Aeronautica o da un ambulatorio della Sanità Marittima del Ministero della Salute. Quindi fai molta attenzione a questo aspetto perché è proprio la carta d'ingresso. La formazione poi, essendo lunga come abbiamo visto, impegnativa ma anche molto costosa, può essere un ostacolo d'ingresso, anzi penso che sia la cosa che fermi la maggior parte delle persone che sognano di diventare pilota. Magari anche tu che stai guardando questo video sogni davvero di diventare pilota, però non puoi perché economicamente è difficile e lo capisco. Infatti se non si viene aiutati dalla famiglia, difficilmente si riesce a intraprendere questa strada. E poi un lavoro abbastanza logorante, quindi il rischio burnout è veramente dietro l'angolo, però questo fa parte appunto del mestiere. Se ti piace però così tanto fare il pilota, fai di tutto per arrivarci. In qualche modo ce la fai, impegnati e vedrai che se la tua strada e questa in qualche modo ci arrivi, o almeno, come dico sempre, avvicinati il più possibile. Ripeto, la disoccupazione non esiste, esistono solo delle competenze che devi ancora imparare. Bene, se questo video ti è piaciuto lasciami un like e se vuoi approfondire qualche nuovo mestiere, mi raccomando scrivimelo nei commenti. Ti saluto e ci vediamo al prossimo video.